Musica Cari telespettatori, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con fatti e commenti. Come sempre qui accanto a me Gaetano Alaimo, direttore di Newtusha, grazie Gaetano. Ben trovato Stefano, ben trovati tutti i telespettatori. Grazie e prima poi di procedere a questa nostra trasmissione volevo notare, come sicuramente voi telespettatori avrete notato, abbiamo questo nuovo sfondo fondale del nostro studio, dei nostri studi di registrazione e come avrete visto il fondale che i nostri colleghi della redazione Marco Nicoletti e Stefano Albertini avevano predisposto per il centocinquantesimo dell'unità d'Italia con i padri appunto della patria, è stato appunto eliminato, non verrà distrutto ma abbiamo deciso di offrirlo al nostro istituto superiore al liceo scientifico Don Delfo Gioacchini di Orte che sicuramente lo installerà presso un'aula appunto dell'istituto stesso e quindi ecco come potete vedere ora inauguriamo con questa nostra puntata di oggi questo nostro fondale. Grazie ancora a Marco Nicoletti e Stefano Albertini. Abbiamo oggi come ospite il segretario generale della funzione pubblica della CISLE Mario Malerba. Grazie a voi per la presenza di avermi invitato, sono contento di tornare un'altra volta qui. Bene, bene. Soprattutto perché come avrete intuito parleremo di sanità, ne parleremo proprio con molto tempismo perché proprio giovedì scorso si è svolta un'assemblea ristretta, un comitato ristretto dei sindaci appunto della ASL di Viterbo presieduta dal sindaco Giulio Marini, questo comitato ristretto ha elaborato alcune valutazioni e sicuramente delle strategie che porteranno avanti enti pubblici e sindacati proprio per rilanciare questa sanità viterbese che viene definita effettivamente in uno stato di emergenza. Ecco, Mario Malerba, come valutate dal punto di vista appunto dei lavoratori della sanità, gli operatori della sanità le risultanze di questo incontro che c'è stato giovedì scorso? Sì, l'incontro c'è stato giovedì scorso, ero fuori per gravi impegni sempre di natura sindacale ma comunque sono stato aggiornato e so quello che è successo perché c'era un collaboratore strettissimo mio, Gian Piero Brizzi e la cosa nasce, l'iniziativa nasce più che altro perché è saputo dell'incontro del comitato ristretto su input del sindaco di Acqua Pendente, di Bambini che praticamente voleva porre al centro dell'attenzione del comitato ristretto la situazione grave di quello che sta succedendo a Acqua Pendente dove tra l'altro c'è uno schieramento trasversale che sta prendendo di petto in maniera forte questa diminuzione di assistenza e di servizi che vengono erogati era nata la necessità di fare questo incontro e noi abbiamo praticamente preso al volo questa iniziativa ci siamo presentati per mettere al centro dell'attenzione anche altre situazioni e la più grave di tutti, quella che ci sembra la più degna di attenzione è quella del mancato pagamento e a rischio anche di posti di lavoro del gruppo Rori mi riferisco per cui alla Nuova Santa Teresa, sita in strada toscanese che è un complesso nuovissimo al centro di riabilitazione dei Nepi sempre dello stesso gruppo i dipendenti non hanno avuto stipendio è tredicesima per vicissitudini diciamo di tipo giudiziario per cui c'è un blocco attualmente un congelamento di circa 20 milioni di euro e questo naturalmente mette in serie difficoltà anche l'erogazione degli stipendi da lì poi è nata quello che mi risulta un intervento del sindaco Marini anche dal prefetto subito dopo per vedere in quale modo affrontare questa situazione che rischia di creare serie problemi a famiglie che si trovano senza le giuste aspettanze economiche questa era l'iniziativa di ieri dopodiché si è parlato anche di altre per cui si è messa in relazione la sanità privata la sanità pubblica certamente sono ambiti separati diversi io ho sempre pensato comunque che anche se molte volte anche alcune organizzazioni sindacali hanno un po' puntato il dito sulla sanità privata io sono convinto che la sanità debba essere pubblica ma debba avere anche la collaborazione e il supporto di una sanità accreditata per cui alla fine la competizione tra le due che deve essere una competizione volta al cittadino utente dia frutti e dia le prestazioni che il cittadino si aspetta per cui nella sanità privata naturalmente tutte le problematiche poi alla fine arrivano al dunque per cui lì si parla subito di cassa integrazione di mancati stipendi, mancati tredicesimi, di rischi di posti di lavoro fortunatamente questo, e mi auguro non accada mai non avviene nel pubblico per cui per me prioritariamente adesso c'è da prendere di petto quella situazione lì dove vivono naturalmente famiglie con gli introiti di dipendenti che sono in buon numero almeno nella nostra provincia si parla di una carenza soprattutto di organico tra medici, personale medico e personale infermieristico di circa 400 unità appunto rispetto al 2010 al 2010 ad oggi 400 unità che non sono state rimpiazzate, sostituite e questo comporta anche oggettivamente un decadimento della prestazione sanitaria, come valutate questa carenza? Questa grave carenza, io adesso non so i numeri con certezza sono anche convinto che secondo me la stragrande maggioranza di personale parliamo di circa 1200 unità nella nostra azienda sono infermieri e sono il doppio circa di una dirigenza medica rapportali in circa di 1 a 2 però quella che è il front office dell'assistenza è quello infermieristico di chi sta in corsia per cui prioritariamente va affrontata una carenza di infermieri anche perché c'è stata un'evoluzione di quella che è la dirigenza medica ma comunque sia noi abbiamo creato una spesa che deriva da varie dirigenze istituite per quanto riguarda strutture che prima non esistevano mi riferisco a unità operative complesse unità operative semplici, avvenza dipertimentale per cui c'è stato un assottigliamento a fronte di creare nuovi servizi non c'è stato l'adeguamento di organico infermieristico per cui abbiamo preso raschiato il barile a destra e a manca e alla fine il risultato è che siamo stati costretti addirittura a parlare di aree a parlare di complessità assistenziale per assegnare le risorse infermieristiche e questo ci mette in seria difficoltà perché poi il turnover è bloccato da ultimo, il 3 aprile il tavolo tecnico che si riunisce tra il Ministro dell'Economia e Finanze e naturalmente la Regione Lazio sul piano di rientro ha messo in discussione addirittura le deroghe di circa 165 operatori che la Regione Lazio aveva dato ai vari direttori generali per cui ci sono problemi che comunque sia rischiano di far ho visto parlare di collasso collasso della sanità il rischio è proprio quello di collassare poi dopo non lo so servirà un buon defibrillatore per rimetterla in sesto Sì, io cambio discorso una delle poche buone notizie che ci sono state negli ultimi mesi forse negli ultimi anni è stata quella del probabile finanziamento della parte finale di Belcolle di circa 10 milioni di Euro che dovrebbero essere stanziati nei prossimi tempi può farci un punto della situazione se realmente questi soldi verranno stanziati e soprattutto quanto tempo occorrerà per vedere operativa l'ultima parte dell'ospedale di Belcolle questa domanda mi fa estremamente piacere perché io credo in questo progetto e credo che attualmente ci sono le premesse dopo circa 50 anni perché 74 la posa della prima pietra che dico no 40 circa la posa della prima pietra in quel di Belcolle potremmo arrivare alla conclusione quindi vedere realizzato tutto l'altro corpo che si staglia appena uno praticamente comincia a venire magari da Tarquinia lo vede perché vede quel blocco di cemento quel gigante sui cimini praticamente nella strada di San Martinese credo che con circa si è parlato di una cifra 10 milioni di Euro io credo che non saranno assolutamente sufficienti è stato però con 12-13 milioni si potrebbe riuscire a completarlo in un tempo che non qualcuno ottimista dice un anno assolutamente no io credo che 2-3 anni siano necessari oggi proprio si è concluso il termine per la presentazione delle domande per partecipare a questa gara che è a Valenza naturalmente europea mi dicono pure che sono state molte le ditte le imprese che erano interessate al completamento di questo ospedale per cui spero che in pochi tempi si possa cantierare e dare inizio ai lavori una volta che Belcolle sarà terminato naturalmente tutto lo scenario il layout con gli anglosassoni della sanità provinciale della sanità viderbese cambierà per cui quello che è il Cobb e Belcolle attuale avrà delle incombenze avrà delle possibilità e delle potenzialità che attualmente mancano è solo un inciso è possibile che questa velocizzazione dei fondi è data proprio dall'accorpamento delle funzioni che invece vengono tolte alle strutture periferiche per quello che ne so diciamo che è stato possibile parlare del completamento a fronte dell'abbandono di un project financing che sarebbe costato intorno penso ai 50 milioni di euro per cui questa è una cifra che naturalmente è inferiore dell'80% per cui abbandonando altri progetti e facendo praticamente focalizzando solo sul corpo a tre potremmo riuscire a e tra l'altro il tutto è collegato anche per quello che ne so io anche al discorso di sale operatorie nuove che stanno vicino alla piastra tecnologica per cui in tutto quel blocco ci dovrebbe essere l'attività chirurgica che si svolge in forma limitrofa dopo nelle sale operatorie di nuova costruzione che stanno in ultima azione ecco io volevo ritornare un pochino sul discorso delle cosiddette macro aree vale a dire ricordo che quantomeno diciamo qualche mese fa ne parlammo insieme proprio perché questo marchigegno chiamiamolo questo stratagemma delle macro aree ha portato poi a una programmazione diciamo sanitaria che è sotto gli occhi di tutti ecco in questo senso ecco ci vuole un po' parlare di come il principio delle macro aree concepito dalla regione Lazio per razionalizzare la spesa e i servizi sanitari siano state attuate ecco ad oggi ma io non ho visto attuazione neanche sento tanto la mancanza comunque della macro aree perché la macro aree deve nascere da vincoli e da requisiti diciamo condivisi con tutte le aziende sia ospedaliere che sanitarie con le popolazioni con i partiti con le organizzazioni sindacali con le associazioni che naturalmente seguono i vari pazienti che hanno necessità per cui sono state fatte macro aree anche in altre regioni ci sono esperienze chiamate diversamente in Toscana le chiamano le arrivate recentemente mi dicono anche in Piemonte però se il tutto è collegato esclusivamente a un discorso di vasi comunicanti per cui poi i posti letto come densità nostra che è più bassa devono con la macro aree andare a compensare quelli più alti della zona romana e dintorni significa che non c'è assolutamente significato in maniera virtuale la vedo la macro area come diciamo la compenetrazione di varie aziende che ne fanno parte e che collaborano tra di loro faccio un esempio e forse non so anche l'altra volta feci lo stesso ma se a Tarquinia si fa un intervento per cui necessiti sangue non è assolutamente il caso che parta la macchina venga a Viteb a prendere il flacone di sangue al servizio immunomatologico e lo porti giù va direttamente a Cittavecchia per cui quel paziente potrà usufruire di quel servizio magari in 10 minuti anziché in un'ora questo dovrebbe essere il concetto che io condivido di macro aree collaborazione tra le aziende non assolutamente arrivare a una super azienda che poi concentri tutte queste attività sanitarie svolte da aziende ospedaliere aziende sanitarie locali insieme questo sarebbe secondo me una ghiattura brevissimo un riferimento alle strutture DEA come vengono valutate e solito cosa sono certamente e questa è una nota dolente perché io ricordo dei manifesti del presidente Polverini sui muri della città oltre a un anno fa in cui si reclamizzava a voce alta che finalmente il DEA di secondo livello negli ospedali che fanno delle aziende unità sanitarie locali delle province noi non abbiamo un DEA di secondo livello scusa DEA dipartimento dipartimento emergente assentrazione di secondo livello che significa avere un salto di qualità perché il DEA di secondo livello raggruppa in sé delle specialistiche che non c'è naturalmente del DEA di primo livello per cui da un'attività polispecialistica a quella ospedaliera questo ancora non è così come l'altro punto dolente è che se fosse stato uno strumento proprio per recuperare una spesa e per dare ottimizzazione alla spesa all'atto aziendale dobbiamo ortroppo dire che ancora oggi la regione non ci ha detto nulla sugli atti aziendali non solo sul nostro che è stato presentato nei tempi corretti ma qui continuamente si rimanda e si rimanda per cui nessuna azienda del Lazio è dotata di uno strumento che comunque previsto per legge dovrebbe consentire al direttore generale e ai due direttori che l'affiancano di governare la spesa e le risorse che c'è io farei un accenno adesso alla situazione drammatica che si sta verificando in Italia dei suicidi per quanto riguarda le sue competenze nel settore dello sviluppo appunto sul territorio sono anni che si occupa anche di questo settore si è svolto alcuni giorni fa un incontro trasversale da tutte le forze produttive le associazioni di categorie per trovare delle soluzioni condivise in merito a questo problema quindi per anticipare speriamo mai eventuali casi anche nella provincia di Terbo anzi è notizia di oggi di un tentativo di suicidio che è stato sventato che comunque si comincia a parlare anche nella provincia di Terbo di questi casi c'è stato anche l'incontro di un'industria qualche giorno fa è intervenuto anche il ministro Passera se non mi sbaglio e quindi il tema è di quelli scottanti qual è il suo punto di vista e soprattutto cosa si sta facendo concretamente nella provincia di Terbo io parlo adesso dal punto di vista personale perché è un argomento talmente di carattere generale che coglie poi tutti gli aspetti del lavoro ma la situazione è estremamente preoccupante perché lavoro non ce n'è rischi di perderlo rischi di non avere stipendi rischi tante cose e sicuramente la priorità in questo paese adesso è quella di dover dare impulso nuovo far ripartire all'economia e creare posti di lavoro quello che mi fa riflettere molto è che una volta dai partiti politici si andava a chiedere il lavoro oggi purtroppo si bussa anche alle porte delle organizzazioni sindacali non sai assolutamente che cosa rispondere perché non c'hai gli strumenti per rispondere e questa cosa ti fa stringere notevolmente ti mette in crisi di coscienza come se passi davanti adesso alla Caritas di Viterbo vedi che la lista di attesa quella lì si allunga sempre di più vedi persone giovani questa è la cosa che sicuramente mette in seria riflessione chi governa dal punto di vista sindacale le attività di lavoro e chi invece politicamente dovrebbe avere al centro dell'attenzione quella che è la possibilità prima di quella che sia l'abitazione la casa ma c'è il lavoro se c'hai un lavoro che è precario un lavoro e sono tanti precari oggi per cui non c'hai possibilità assolutamente neanche di accendere in moto neanche di mettere su famiglia a fronte di quelli che magari si riempiono la bocca che noi siamo per questo e per quest'altro credo che se questo governo tecnico non affronta in maniera seria questa cosa quelli che sono i fatti spiacevoli purtroppo in cui si perde la vita non si riesce assolutamente a tamponarli c'è gente che sta molto male e che soffre per questo e che arriva a momenti in cui poi decide il gesto estremo che è una sconfitta notevole se vuole rispondere so che non è facile secondo lei come sta lavorando questo governo in generale è all'altezza delle aspettative per questa questa è una domanda difficile una domanda politica io credo che nell'aspetto del lavoro ancora stiamo vedendo risultati anche non vediamo risultati soddisfacenti per quanto riguarda l'aggressione a tutta quella che è l'aspetto fiscale l'evasione fiscale sì ogni tanto si sente parlare il 2 giugno in previsione una grossa manifestazione unitaria di GGL Cisleville a Roma 2 giugno poi è di sabato per cui nella politica di non scioperare perché oggi nessuno può scioperare lo fai estremamente proprio al limite delle tue capacità quando non c'è più trattativa perché poi vai a colpire la busta vaga dell'indipendente noi siamo andati diverse volte a manifestare a contestare a protestare un giorno in cui non c'era lavoro per evitare che gente perdesse quella che è la giornata che gli fa comodo per arrivare almeno alla terza settimana perché c'è la seria difficoltà arrivare fino ai mesi e qualcuno riesce ad arrivare a metà poi dopo Dio provvede purtroppo ecco io vorrei spostare giustamente un po' il ragionamento alle nostre domande su un cavallo di battaglia che il sindacato in genere ma specialmente la vostra organizzazione della CISL ha posto in essere vale a dire le infrastrutture cioè gli investimenti le opere pubbliche per infrastrutture che potrebbero e sicuramente nella teoria economica possono costituire uno dei volani per far ripartire anche l'economia della nostra provincia di Viterbo cosa vi risulta riguardo agli investimenti i lavori che dovrebbero partire della trasversale del completamento della trasversale e se siete appunto al corrente di ulteriori investimenti che fino adesso come si diceva sono stati diciamo annunciati programmati a livello ministeriale che però non sono stati concretamente cantierati io diciamo che questo è un aspetto un po' confederale di tutta la situazione l'infrastruttura che secondo me almeno per quello che mi riguarda la più importante è quella di cui parlavamo prima se la vogliamo considerare un'infrastruttura è quella lì completamente l'infrastruttura di Belcolle dove comunque hai diritto è un lavoro che riparte in qualche maniera perché purtroppo in questa provincia io ero giovane quando sentivo parlare ancora di piattaforma della Tuscia ancora purtroppo ne sentiamo parlare nonostante organizzazioni sindacali anche imprenditori che poi hanno interesse anche loro perché quando cantieri delle opere comunque c'è del lavoro ne hanno sempre parlato hanno alzato la voce una politica che però non dà risposta in questo senso ricordo quante volte si è parlato di termi a Viterbo fatti in una certa maniera è un progetto che non lo so quando risale forse a prima della prima pietra di Belcolle ho sentito parlare tanto di raddoppio della Cassia ho sentito parlare recentemente di aeroporto ma secondo me sono infrastrutture che non so quale governo sia necessario per metterle in cantiere e per dargli un via da questo punto di vista sono estremamente pessimista secondo me dobbiamo tornare alla vocazione del nostro territorio che è una vocazione di servizi che è una vocazione anche di assistenza di persone che comunque devono trovare un lavoro anche in quelli che possono essere gli aspetti dell'associazionismo per quanto riguarda il sociale io credo che un forte impulso nella nostra provincia anche per creare del lavoro debba essere dato al famoso terzo settore alle cooperative sociali che possono dare un forte contributo e dare posti di lavoro in qualche modo ecco brevemente una battuta riguardo lei anche diciamo ha come responsabilità sindacale quello della funzione pubblica quindi di tutto l'apparato un po' ecco degli uffici pubblici nella nostra provincia come vede ecco il ruolo della pubblica amministrazione certo una domanda abbastanza impegnante il ruolo e soprattutto come qual è l'apporto che la pubblica amministrazione può dare in questa fase di grossa crisi penso che la pubblica amministrazione sia determinante nella crescita di questo paese noi siamo convinti che vada riformata perché ci sono delle lacune ci sono delle carenze cioè del personale che forse deve essere ancora formato in maniera diciamo superiore a quello che adesso diciamo pure che però questa pubblica amministrazione non solo da noi a livello nazionale sia ridotta in maniera drastica prima abbiamo parlato di infermieri ma la stessa cosa succede nei comuni nelle autonomie locali in tutto e per tutto nei ministeri nello Stato negli enti di previdenza per cui noi non ci sottraerremo mai a un confronto serio con questo governo ma come anche i precedenti e i futuri per migliorare le condizioni sia del dipendente pubblico che debba dare risposte verificabili una performance d'equipe che debba essere riscontrato oggettivamente siamo pronti per fare per questa scommessa e per metterci al tavolino e trovare le risposte perché da lì passano le risposte non solo alle imprese a tutti i cittadini per cui una pubblica amministrazione al passo dei tempi che sia fluida che sia veloce nel dare le risposte dalla sanità a quella che può essere la pensione a quella che può essere il certificato siamo sicuri che possa essere un obiettivo raggiungibile nell'arco di pochissimo tempo io sono un'ultima battuta su una cosa che ci chiedono spesso i nostri lettori di dignoduscio.it la situazione dei precari della provincia sappiamo che forse si farà un nuovo concorso com'è la situazione è una notizia che abbiamo saputo in molti del concorso diciamo che sui precari della provincia forse si arriva a qualche conclusione almeno da quello che si sente e si legge è stata una vicenda estremamente complicata come complicato tutto il mondo del precariato perché ogni precariato ha un aspetto particolare su questo però vorrei fare non mi riferisco alla provincia però colgo l'occasione della domanda che mi ha fatto per fare un po' di chiarezza perché molte volte noi siamo poi abituati a pensare al precariato come un soggetto talmente vasto che raccoglie tutte quante le situazioni non è precario per esempio colui che sostituisce in una pubblica amministrazione una dipendente che è gestante perché nel momento in cui la gestante rientra se rimanesse sarebbe un sovrannumero di dotazione organica per cui molte volte poi si ingenerano delle false aspettative che sono estremamente dannose nelle persone come invece sono d'accordo che colui che ha una partita IVA e che da 4-5 anni magari rilascia la fattura alla pubblica amministrazione quello sicuramente non è un consulente perché che è qualcuno che dovrebbe essere messo in regola e far parte di quella pubblica amministrazione io spero che entro l'anno si diano risposte soddisfacenti anche a tutti quelli che sono i precari dell'amministrazione provinciale del resto si concluderà felicemente sono ottimista perché poi alla fine altri le abbiamo viste terminare in maniera soddisfacente mi riferisco a tutti quei cantieri scuoli al momento dell'amministrazione Mazzoli per cui noi siamo stati con il freddo e il gelo sotto la provincia per diverso tempo con tante bandiere ma poi alla fine abbiamo spuntato il risultato voglio che questo sia un augurio anche per quelli che attualmente stanno in questa condizione precarietta dell'amministrazione provinciale bene ecco direi che abbiamo fatto un'ampia analisi diciamo delle problematiche sia della sanità che della pubblica amministrazione io ringrazio Gaetano come sempre della collaborazione autorevole e ringrazio anche Mario Malerba segretario generale della CISL Funzione pubblica di Viterbo grazie e buon lavoro arrivederci cari telespettatori torniamo in studio per una brevissima rassegna dello sport viterbese siamo sempre con Gaetano Alaimo e con noi abbiamo Maurizio Fiorani che è appunto il responsabile della pagina sportiva del periodico New Tuscia e subito a Maurizio un bilancio della stagione calcistica di Viterbese e Flaminia Civita Castellana che appunto stanno portando a termine hanno portato ormai a termine grazie il campionato di serie di Girone E specialmente la Viterbese diciamo è stato un campionato un po' molto combattuto diciamo molto allora che dire buonasera a tutti telespettatori di Teleradio Orte fare un commento su questa stagione è alquanto difficile perché la Viterbese era partita con propositi e velità di promozione o quanto meno di lottare per le prime posizioni anche se la concorrenza era molto agguerrita nel girone Umbro Toscano Laziale c'erano squadre come il Ponte D'Era che tra l'altro ha vinto il campionato con ben 10 punti di vantaggio e con tre giornate di anticipo infatti ha vinto proprio a Viterbo il campionato con il famoso pareggio di 1 a 1 che poi ha sancito la promozione della squadra Granata Pisana nel campionato di seconda divisione nazionale quindi il ritorno dei Granata nel calcio professionistico per quanto riguarda Viterbese una stagione certamente molto al di sotto delle sue possibilità un campionato molto deludente partito subito male dall'inizio infatti già la seconda giornata c'è stato già l'isonero di mister Sergio per via di alcuni screzi anche con la società e poi anche l'avvicendamento in panchina con Alessandro Conticchio ex giocatore anche del Torino del Cagliari e soprattutto del Lecce in Serie A ma i risultati purtroppo non sono arrivati nonostante che la società a novembre abbia fatto una campagna di rafforzamento molto importante con ben 9 arrivi altrettante partenze ma anche il lavoro di purtroppo il direttore sportivo Manfra non è riuscito a portare a questa squadra nonostante gli sporsi economici ai livelli che gli competono e purtroppo la Viterbese anche perché ha fallito molte occasioni avrebbe potuto tranquillamente giungere ai playoff che sono stati falliti anche per alcune diciamo partite perse in maniera molto banale vedi alcuni risultati tipo il pareggio con lo Sporting Terni a Terni pareggio della squadra Ternana al 95esimo altre partite persi in modo molto diciamo imbarazzante si intravedono le prospettive per il prossimo campionato delle strategie le prospettive si parla sempre di un cambio societario però le prospettive sono proprio legate a questo per troppo fare un campionato di serie D e farlo un campionato di vertice soprattutto per una società come la Viterbese rappresenta sempre un cavolo di provincia quindi non può fare un campionato di basso profilo ma deve puntare quantomeno ai playoff o vincere il torneo quindi servono soldi e soprattutto una società che abbia una solidità economica finanziaria dei progetti anche a lunga gittata questo è il problema e col momento non facile economico non è semplice la prospettiva cioè i tifosi la tifoseria vorrebbe al timone della società giallo-blu Piero Camilli però tra il dire e il fare ce ne corre perché oltretutto Piero Camilli come tutti conoscono imprenditore di Grotte di Castro è già padrone del Grosseto in serie B quindi sarebbe un impegno ma poi ci sono anche oltre chiaro cedere una società di serie B con prestigio come il Grosseto per prendere anche una società diciamo blasonata ma una nobile decaduta di Terbese in serie D certo non è un'impresa da poco perché poi bisogna rilanciare anche una società e riportarla ai livelli che gli competono anche se alcune cose sono state effettuate anche bene dalla dirigenza attuale come il settore giovanile che comincia a dare i primi frutti e a lanciare anche i giovani in prima squadra Del Flaminia Civita Castellana brevissimamente Allora la Flaminia possiamo dire che invece ha fatto il cammino inverso della Viterbese perché la situazione era molto difficile in quanto il mister Pucci che ha rilevato una squadra che era appena ultima con 5 punti in classifica ha esordito proprio in trasferta contro proprio il Ponte Della perdendo 2 a 1 è subentrato al mister Pietrangeli però da quel momento in circa 28 partite se non erro circa 28 27 partite ha collezionato 40 punti 39 punti per l'esattezza raggiungendo quota 44 e ha permesso a questa compagine anche di raggiungere una salvezza senza ricorrere alla lotteria dei play out che è sempre un rischio poi a fine stagione fare gli spreggi per non retrocedere un buon lavoro con una squadra che ha valorizzato molti giovani un lavoro fatto da un mister che è molto preparato come il mister Pucci che in provincia di Viterbo è molto conosciuto ha esperienze di C1 allenato squadre come la Viterbese in primis la Fermana e anche il Lanciano in C1 quindi una persona che ha un'esperienza oltre che un carisma non da poco che meriterebbe certamente un campionato superiore alla Serie D sempre per il calcio una battuta siamo ad Orte l'Ortana anche qui l'Ortana purtroppo note dolenti perché anche l'Ortana è in zone bassissime di classifica quindi non ce l'ha fatta penso a salvarsi perché purtroppo il campionato di promozione Umbro è un peccato perché tutto il calcio Viterbese purtroppo ha avuto un'involuzione in questi ultimi anni pazzesca dal fallimento della Viterbese nel 2004 da quando la vecchia USV Viterbese ha fallita dalla C1 è iniziata proprio la decadenza non solo della Viterbese in quanto con pagine calcistica del capoluogo ma proprio a ruota anche del calcio provinciale dove praticamente siamo un capoluogo di provincia è una provincia che non ha nessuna squadra di calcio in una categoria professionistica è un dato che deve far riflettere quindi è indice anche oltre di crisi economica anche forse di alcune lacune anche penso societarie perché una città a capoluogo di provincia dovrebbe aspirare almeno un campionato professionistico almeno non dico di altissimo di livello ma almeno di una seconda divisione cioè un ex C2 sì bene Gaetano ma io evito di fare domande a un amico prima che un collaboratore a Maurizio farei proprio una battuta personale sul discorso della gestione societaria si parla spesso di Piero Camilli sì Piero Camilli no secondo me il problema non è Piero Camilli sì Piero Camilli no ma è proprio una gestione che miri in alto forse è mancato una gestione continuativa poi Maurizio mi potrà smentire perché non sono chiaramente esperto di sport però questa frammentazione di cambi di squadre se non mi sbaglio che ha cambiato quasi completamente la rosa e progetti che non partono da lontano poi si è dimostrato che non vanno poi lontano quindi speriamo che chiunque prende in mano la Viterbese e poi direi spezzare un'arancia pure a favore di Fiaschetti che è il nuovo presidente dell'Interporto tra l'altro da poco tempo ha avuto una grande capacità gestionare perché è riuscito innanzitutto a sanare i debiti della società e a riportare la Viterbese quindi a essere tranquilla da un punto di vista dei controlli eccetera quindi quello è stato il primo aspetto purtroppo è stato anche molto sfortunato quindi un presidente molto valido che bisogna lodare per quanto riguarda le capacità di management non colto dalla fortuna speriamo che adesso ci sia un cambiamento sia che venga Camilli sia che si continui con l'attuale o con nuove gestioni solo questo bene grazie anche di questa tua notazione io passerei al basket la Belli CGT e i risultati appunto che ha conseguito sì adesso forse l'unica nota positiva è un po' il basket maschile dilettantistico che ci sta dando delle soddisfazioni anche sia con la Belli CGT che è andata praticamente agli spareggi promozioni che anche la stessa Stella Azzurra che ha fatto un campionato di maschile di serie C abbastanza valido sono state forse le uniche note positive di questa stagione perché effettivamente Viterbo città dello sport quest'anno purtroppo non è decollata mi auguro che in futuro ci sia un cambio di rotta o quantomeno si intraveda in futuro anche la possibilità di far crescere il movimento sportivo a Viterbo e provincia anche se c'è un deficit infrastrutturale non da poco anche questo ci penalizza perché non avendo molte strutture sportive mancando anche diciamo impianti all'altezza norma e questo penalizza anche i settori giovanili che poi sono la linfa vitale per queste società visto anche la crisi economica è molto importante valorizzare i settori giovanili per poter poi mano a mano immettere forze nuove nella prima squadra io vorrei per concludere per completare non è assolutamente una rettifica ma un completamento di quello che dice Maurizio ci sono delle soddisfazioni ne chiamiamo gli sport minori per esempio la Larus per quanto riguarda il nuoto ha organizzato delle manifestazioni un impianto sportivo di primo livello malgrado come è giusto quello che dice Maurizio che c'è da migliorare per quanto riguarda la gestione dell'impiantistica ci sono venuti campioni olimpici quindi questo è giusto dirlo per correttezza e trasparenza poi per esempio ricorderei visto che siamo a Torte gli arcieri campioni d'Italia che hanno portato sicuramente è uno sport non conosciuto come può essere il calcio o il basket ma è giusto dirlo poi ci sono non sono esperto di sport alcuni esponenti dei ciclisti un atleta di blera e anche altri che partecipano al giro d'Italia e altre persone che mi scordo solamente essendo sport noti come il calcio spesso non vanno all'onore delle croniche però si sta lavorando abbastanza bene da questo punto di vista bene ecco con questa nota conclusiva noi ringraziamo Maurizio Fiorani come sempre molto preciso anche dalle pagine appunto di New Tusha ringraziamo anche come sempre Gaetano Alaimo grazie a te e grazie ai telespettatori per la loro attenzione arrivederci 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 grazie a tutti